Abbiamo riscontrato varie omissioni, inadempienze, quindi noi cerchiamo chiarezza perché vogliamo far sì che mio padre riposi in santa pace. Leonardo Quinti, un artigiano di Pozzo della Chiana, morì cadendo da una scala all'interno di un'azienda agricola di Laterina. Adesso, a due anni e mezzo da quella drammatico incidente, i familiari chiedono la riapertura del caso. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo stava controllando un canale di scolo sul tetto dell'edificio quando cadde da una scala di ferro. Sull'episodio indagarono i carabinieri e gli ispettori del PISL e dell'ASL. Il caso venne archiviato sei mesi dopo dal Tribunale di Arezzo. Un medico legale non è arrivato, un'ispezione del cadavere non è stata fatta, poi di conseguenza l'autopsia. Lì un magistrato non è arrivato, un medico legale non è arrivato e si sono basati solo praticamente sugli atti di una constatazione di decesso di una dottoressa di un 118. Mio padre, nel momento che sono arrivati gli ispettori dell'ASL per fare i sopralluoghi, mio padre era già sopra una barella. Perché mio padre? Cioè la zona non era stata sigillata. La famiglia adesso assistita dall'avvocato Massimiliano Manzo ha incaricato un consulente per un'analisi preliminare dalla quale emergerebbero incongruenze rispetto all'attuale ricostruzione. Prima di tutto, secondo la famiglia, sarebbero i tempi a non tornare. Mio padre entra, arriva, si presenta, si mette a parlare, chiama il committente. Poi di sana pianta lui si prende una scala, entra dentro una cantina, con questa scala apre due porte antipanico, monta su e casca e muore. Nel giro di pochissimi minuti. Mi sembra una cosa molto ristretta. Ma non solo. L'ambulanza ha fatto un incidente con un dublò e non è mai arrivata. La dottoressa, perché non trovava giustamente la strada e tutto, arriva dopo un'ora, con ormai però dice che non c'era più niente da fare. Però ricordiamoci che ci sono testimonianze che ci dicono che mio padre era vivo. Oggi i figli e la moglie chiedono nuovamente che sia fatta penna luce su questa vicenda. Io voglio delle risposte, perché questa è una tortura e una violenza psicologica e voglio la verità.